ciao ragazzi ciao a tutti sono slick chief e oggi vi auguro dovete augurarmi non dovete fare gli auguri, ho raggiunto 50 iscritti e vi ringrazio, a parte prima dei baule eh, magicamente 10 su 10 eh, oddio, spediamo in bene, spediamo in bene, niente, oddio boia ottimo, comunque è stato un video rapido, vi metterò degli iscritti, dei momenti epici nella chat del platini e nienta, spero che l'hai interessata a tutti e noi ci vediamo come sempre alla prossima video ciao 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 ciao